Abba mia che freddo essa paura, abba mia! C'era la colpa tua insomma io lo sai ci conosciamo da tanti anni, da tante cose, abbiamo visto tanti movimenti ziene, Mi ricordi solo quando uscivano i zii, perché chiacchieravamo, eravamo giovani altri tempi, veramente tante belle cose, io ricordo. Hai ragione, Luca Rie, veramente mi ricordo tante cose del passato, la verità, insomma, quando eravamo giovani era tutta un'altra cosa, veramente, io veramente c'ho dei bei ricordi. Eppure ti dicevo, c'è, i tempi sono cambiati, voglio avere, c'è l'educazione, c'è il modo di comportarsi rispetto ai giovani, tutti altri tempi, insomma, c'è un primo troppo, certamente, in questo epoco lì, insomma, che è pieno di caos, di riguardo si dai, insomma. E questo è vero, ti devo dire la verità, onestamente, io sono rimasto veramente tanto tempo fa con l'idea che qua le cose che non sono per niente cambiate, invece mi sono sbagliata. E quindi, onestamente, ti dico proprio, erano meglio i tempi nostri, ci si voleva bene veramente per un pezzo di panna, credi? E appunto, su, un pezzo di panna, che non tenevamo manco tra le altre cose, su, mi ricordi quando ci facevano le scorze di patate? Eh, oggi il suo bene è il tuo punto, che è un pezzo di panna, nel suo borto, no proprio, cioè, povera cosa fuori dal mondo, il suo bene, che voglio bene, cioè, io c'è sempre volete sempre bene, sempre spettato, c'è voluto bene, e così deve essere, da oggi, fino all'eternità, promettimo. cari te lo prometto tu lo sai come l'avete su sta cosa qua noi sono 50 anni che stiamo assieme tenevamo 20 anni te lo ricordi veniva mamma presso a noi e quindi insomma figurati se non ti posso promettere sta cosa qua il rispetto all'educazione è una cosa che non si compra e non si vende tu lo sai e ciò dico con Gesù insomma io su sta cosa qua lo sai non transico insomma nel senso che poi fondamentalmente mi dicevo ma vuole bene per quelle che siamo allora che certamente ci siamo voluti bene ci siamo conosciuti per un fatto di anelli, di terreni, di casa ma tu stai per queste cose non ci stai per le prove ti voglio bene non esiste insomma hai ragione Lucari noi veramente eravamo poveri non tenevamo niente giusto qualche pecora poco di formaggio veramente poche cose gli stracci di nonna qualche mantella giusto qualche calzetta di lana veramente poche cose abbiamo vissuto nella povertà eravamo felici però te lo ricordi e come non mi ricordi eravamo felici ma non scherzi veramente oggi la gente erano tutto il contrario non sono felice oggi c'è il cellulare sei com'io poi parlano con l'estero per dire viene bisogno di uscire l'uomo luce ti voglio bene noi stiamo vicini per poche cose volevamo bene ci abbracciavamo oggi si abbracciano online queste cose che se capisci più di tanto hai ragione lucarie noi stiamo sempre vicini capito ci abbracciavamo ci volevamo bene il bacetto dato di nascosa ti ricordi il bacetto dato di nascosa mamma mia veramente bene ricordi è vero lucarie cugè tu sai io ti ho voluto bene ti vorrò bene fin quando alla notte dei tempi dalla notte dei tempi e fino a quando sarà e questa è la cosa più bella hai ragione lucarie puri ciao 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 cugè ciao ti saluto ciao bella ciao